Sono soltanto 12 i nuovi contagiati in Campania, su oltre 4.000 tamponi che sono stati processati ieri nei laboratori degli ospedali della Regione. Nessun risultato positivo nei laboratori del Ruggi di Salerno e del Presidio ospedaliero di Eboli. Si svuotano le terapie intensive, anche quelle che nei giorni dell'emergenza erano andate sotto stress, diventando simbolo della lotta alla pandemia, come quelle del Monaldi e del Policlinico di Napoli. Da domani la terapia intensiva del Monaldi, temporaneamente prestata al cotugno per l'emergenza Covid, torna alla sua funzione. Significa che viene riattivata come struttura rianimativa per i ricoverati del Monaldi, che a questo punto, viste le mutate esigenze, riacquisisce il ruolo originario di presidio multidisciplinare non Covid. Entusiasmo anche a poche centinaia di metri tra i medici dell'azienda Policlinico della Federico II, che pure aveva dato una mano durante la fase cruciale della pandemia all'ospedale Cotugno. Da domani riaprono i mercati. Le aree mercatali sono riaperte, ma soltanto per la vendita di generi alimentari e nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. Il nuovo provvedimento, inserito nella nuova ordinanza della regione Campania, è la conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica. Tornano anche i mercati di Campania Amica, consentendo agli agricoltori di riprendere l'attività di vendita diretta dei loro prodotti sotto legida della Col Diretti. Nelle città più vicine a noi non è ancora dato sapere cosa succederà per diversi motivi. Innanzitutto verificare se gli ambulanti sono pronti a riprendere l'attività, sia in termini di prodotti da mettere sulla bancarella, sia sulle norme di sicurezza cui sono obbligati. A nocere inferiore domani, lunedì, è da calendario il mercato settimanale, che era stato interrotto, e lo è attualmente, da un'ordinanza comunale emessa prima di quella regionale e quindi poi nazionale. Cosa succederà se un commerciante di prodotti alimentari monterà la sua baracca? Discorso diverso nell'area mercatale del Trincerone. Lì c'è un solo commerciante che sembra non sia ancora pronto a riaprire per le misure di sicurezza imposte dalle norme anti-covid. Avrà bisogno di alcuni giorni per farlo. Il sindaco Maglio Torquato ha fatto intendere che in queste ore si sta valutando il da farsi. Probabilmente si aspetterà il 18 maggio, quando dovrebbe entrare in vicore il decreto del governo Conte.